Devono procedere. Che cosa attende le entità astrali che ci parlano? Commento. Devono procedere anche loro nel cammino evolutivo ed incarnarsi di nuovo. Esse non sottostanno al tempo che scorre e quindi prima il desiderio e poi il bisogno di incarnarsi può verificarsi in pochi mesi come in molti anni. Il dopo o il prima è una condizione del tutto terrena. La reincarnazione dipende dal desiderio o dalla volontà dell'entità di procedere più o meno velocemente nell'evoluzione.